Ciao a tutti ragazzi, ben tornati da Fremolesanco, oggi siamo qua per vedere un mazzo Descartes, è da tanto che non vediamo un mazzo Descartes della Batchicle, ma oggi siamo tornati a vederli, perché ho comprato un altro mazzo. Ok, sono riuscito a togliere la maschera, ciao a tutti, sono io il vero Fremolesanco, quello che stavo parlando fino ad un attimo fa ero io, ma posseduto dallo spirito di Brian Wayne's, e oggi siamo qua con un nuovo video, tra l'altro devo tagliarmi la barba, ma questa è una cosa che non ci interessa perché è extra, e siamo a vedere un nuovo mazzo di bicicletta, il mazzo è il Sea King, niente oggi ho dovuto disfare, e andiamo subito ad esplorare già che ci siamo. Allora, questo che avete già visto nella intro è la scatola, la scatola molto bella, e tra l'altro il materiale di questa scatola è più cartone, invece quelli che vediamo le scorse volte erano più plastificati, diciamo. Giusto per farvi capire la differenza, questo è uno degli altri mazzi, sono tutti fatti in questo modo, i mazzi che abbiamo visto scorse volte, e come vedete infatti riflette molto di più la luce, questo non riflette assolutamente niente se non nel logo, e anche a livello di suono si sente la differenza di materiale. E questa cosa di farlo invece più di carta, più effetto carta, è molto figa, perché crea un contrasto con le scritte che invece sono lucide, tra l'altro questo effetto oro è veramente molto 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 bello, secondo me. E tra l'altro mi è arrivato già sciupato, come vedete ha degli angoli già belli distrutti, ma vabbè ci accontentiamo, tanto nel senso ragazzi sono cose molto 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 fragili che maneggiandole un paio di volte già si distruggono, come sempre c'è il sigillo veramente in condizioni pessime, tra l'altro se non fosse in realtà per questo cosino qua che si è staccato non sarebbe neanche tremendo a questo giro il sigillo, cioè se andiamo a confrontare con questo, vabbè non c'è paragone. Però devo dire che il feeling in mano, cioè non ho veramente, è mille volte sopra, cioè questo è veramente bellissimo, questo è plastica. E tra l'altro, non so se si è notato, non so neanche come farvelo notare in realtà, ma, ah vedi così si nota forse un pochino. Questi, queste cose sono in rilievo, non è un disegno ma è appunto un rilievo, infatti andiamo se riesco a farvelo capire con l'unghia, senti, so se si è sentito, perché se lo faccio in un altro punto, tipo qua, senti liscio, se lo faccio invece qui, perché appunto è il rilievo, non so bene come farvelo vedere, forse un pochino si capisce, sì, se faccio così un po' si vede. Vabbè, insomma, molto molto figo, questo effetto è veramente incredibile, veramente bello. Tra l'altro qui dietro invece mi sa che non è il rilievo, no? Quindi sarà un rilievo, qui è tutto piatto, vabbè, ci sto. Direi che abbiamo analizzato abbastanza la scatola, qui c'è scritto Seeking, che è il nome del mazzo, c'è questo simbolo qua che è la faccia di questo tizio qui, credo, che è tipo tritone, non so. Tra l'altro gli manca un occhio, no? Fatto apposto, c'è un occhio aperto e uno mezzo aperto, vedi? E di qua invece, vabbè, la solita scritta è Cushion Finish Made in USA con questo simbolino nel mezzo. Ok, direi che la scatola l'abbiamo vista abbastanza, insomma, è una scatola. Passiamo invece alla parte forse più importante, ovvero il mazzo vero e proprio. Come vedete, allora, il retro delle carte è questo qua, che va a riprendere esattamente quello che c'è dietro alla scatola, con colori un po' più, cioè un po' diversi. Ovviamente non c'è più l'effetto oro, questo è un peccato, perché questo effetto oro, se fosse stato ripreso anche sulle carte, sarebbe stato veramente bello, veramente. Forse è un po' pacchiano, perché c'è tantissimo oro qua, ma, cioè, oggettivamente incredibile. Veramente sarebbe stato un bel colpo d'occhio, invece non l'hanno ripreso, penso per motivi di risparmio, e hanno invece ripreso semplicemente il disegno con colori diversi. Devo dire che penso di preferire i colori qua, che sono molto più pastello, molto più soft, rispetto a questo blu bello pieno e questo azzurro, che secondo me danno... boh, danno un po' più effetto... non so come dire. Non so come dire, però avrei preferito l'altro blu, ok? Il blu della scatola. Però vi posso dire che in video è molto peggio di com'è realmente. Ora non so se, vediamo, utilizzando magari un'altra videocamera, no, non cambia niente, si vede sempre così. Comunque non è in questo modo, assolutamente, non... Mi viene un po' le palle, perché il telefono tende a modificare i colori, non ha dei colori veritieri, ma tende ad alzare la saturazione in automatico, perché nella realtà si avvicinano molto di più. Cioè, questi sembrano abbastanza simili, come li vedete voi, rispetto a come li vedo io, questi no, perché i colori che vedo io sono molto più simili a questa, rispetto a come li vedete voi. Cioè, sono quasi così. Sono leggermente più scuri, ma non c'è questo blu così pieno, è un... Anche questo è un grigiastro. Mi dispiace che non possiate vederlo, ma vabbè. Allora, se andiamo a vedere, le carte sono già leggermente rovinate, e questo indica che sono molto più di carta rispetto a... Niente, sono abbastanza cartose, non sono troppo plastificate. Il feeling, appunto, scorrendo sui bordi si sente abbastanza la carta, però la carta si sente che è bella plastificata, comunque sono le classiche bicycle abbastanza resistenti. Insomma, sono, come sempre, ottime carte. A livello di durezza delle carte... Normale. E niente, andiamo a vedere le carte, effettivamente. Cosa contiene questo mazzo. Allora, come vedete, io se giro avanti o dietro c'è sempre il back, perché c'è una carta che è doppio back. Quindi, carta di esempio, così. Con il... Sia l'avanti che dietro, fatto in questo modo. Tra l'altro, andiamo a vedere il riconoscimento fra sopra e sotto. Vediamo, abbiamo un'altra carta ad esempio. Non mi ricordo neanche io. Dovrebbe essere, sì, è come si intreccia qua. Non si nota molto, ma se vedete c'è l'intreccio è diverso. E... Niente, perché qua passano... Sono questi due sopra che vanno sotto. Invece qui partono da sotto e vanno sopra. Semplicemente. Non si nota molto, ma come tutti questi dettagli di fronte e retro, non... ovviamente non si vede mai. Non è una cosa che si deve notare. È bene che sia nascosta, perché altrimenti... Può... Niente, se è troppo evidente non ha senso. E poi è bello anche vedere... Un back è più pulito, secondo me, se è... Cioè, se... Se a prima vista è uguale sopra e sotto, è specchiato. E tra l'altro è specchiato anche destra e sinistra. Cioè, se ci fate caso, se prendete un angolo di questi, e lo ripetete quattro volte, vi viene praticamente lo stesso sfondo totale. Quindi, andiamo un attimino a vedere cosa contiene. Partendo dai Joker. Questi sono i Joker di questo mazzo. Sono molto simili ai classici... Cioè, sono in realtà senza molto simili. Sono sempre i soliti Joker, quelli classici della Bicycle. Ma, ovviamente, con i colori del mazzo. Quindi, questo è colorato di questo blu un po' sul grigio. Voi lo vedete più scuro di quello che è. Con questo bordino, non proprio oro, ma... Diciamo che va a riprendere questo colore del retro. Questo giallognolo, quasi marroncino. Questo è quello in bianco e nero. E dietro già si vede questo sfondo che si ripete per tutte le carte. Questi ghirigori, no? In trasparenza. Che poi dovrebbero essere credere gli stessi ghirigori che ci sono qua. No, sono solo molto simili. Penso. No, forse sì. È questo ghirigoro qui. È questo qua. Questa porzione centrale. Non so se si vede. Vedete? C'è questa specie di cuore in alto. Si ripete. Questa roba qua. I due fiorellini qui. Qui. Sì, sì. È questa porzione qui. E niente, questo è il joker 1. Questo è il joker 2. Ve li metto a paragone con quelli del mazzo della fenice. Quindi il mazzo di fuoco. Questo qua per farvi capire. Il fireboard. Che abbiamo visto prima. Questo. Questi sono il joker in bianco e nero. Molto più carino. Quello di questo mazzo che è molto più decorato, ovviamente. E invece quello ha colori in questo modo. Molto carino. Mi piacciono sti colori. Niente male. Andiamo a vedere poi. Se non ho scordato la carta extra. Che non è praticamente importante. Ma per giustizia di cose ve la faccio vedere. È questa classica carta che abbiamo già visto. Ma con i colori. Tra l'altro guarda davanti e dietro. Sì. Con questo blu. Classico. Del mazzo. Quindi è personalizzata. Per farvi capire sarebbe questa. Tra l'altro. Qua è in scala cromatica. Cioè non. Non ha diversi colori. A differenza di questo classico. Ma ha soltanto il colore del mazzo. Molto figo. Come se fosse in bianco e in nero. Ma in bluito. Diciamo così. Carino. Andiamo poi a vedere gli assi. Qui purtroppo. Questo è uno dei classici mazzi. Dove gli assi. Non sono. Fighi. A parte l'asso di picche. Il che mi fa sempre girare le palle. Perché essendo un amante dell'ordine. Se mi fai un asso bello. Non ho mai capito tra l'altro. Perché proprio l'asso. L'asso di picche sia quello preferito. Ma sarebbe figo verli tutti. Fighi. Secondo me. Tutti particolari. Tra l'altro. L'unica cosa. Che mi piace. Di questi assi qua. È che. Hanno tutto questo ghirigoro intorno. Li fa sembrare speciali. Anche. Vedendoli qua. Perché hanno la carta piena. Quindi c'è al centro. Il. Appunto. Il seme. E tutto intorno. Si va comunque. A vedere una roba. E invece questo. È quello figo. Quello di picche. Che ci fa vedere. Bicycle Seeking. Questo simbolo. Che va a riprendere sempre. Quello che c'è sul retro delle carte. Come sempre voi. Vedete i colori sfalsati. Madonna. The United Set Playing Cars Company. Made in USA. E poi c'è un codice. Sto codice. Io. Boh. Me lo sarei anche risparmiato. Già le scritte. Le posso capire. Perché. È un po' un. Tipo. Titoli di testa. Ok. Però. Il codicino. Cosa. Cosa me ne faccio di questo codice. Cioè. Non mi trasmette niente. È brutto e basta. Vabbè. Andiamo a vedere il resto. Allora. Le carte dal 2x10. Sono ovviamente abbastanza. Semplici. Hanno. Il seme con intorno. Questo bordino. Classico. Giallo. L'olino marroncino. Che viene sempre ripreso. E poi dietro c'è il Ghirigoro. Tutto è. Non c'è niente da vedere. Sono tutte fatte in questo modo. Ovviamente non ve l'ho specificato. Ma. Il nero. È sostituito. Dal. Da questo blu. Che è poi. Quello che mi ha. Che mi è piaciuto di più di questo mazzo. Che vedendolo in video. Sembra molto più nero di quello che è. Perché come vi ho già detto. La videocamera. Cioè il telefono. Rende questi blu molto più scuri. Ma in realtà sono abbastanza chiari. Sono. Vediamo. Sono leggermente più scuri di questo in realtà. Più o meno sono così. Il colore è quello lì. E niente. Vabbè. Non c'è molto da vedere qua. Passiamo alle figure. La parte più importante forse. Questi sono i jack. Ve li faccio vedere. Sono i classici jack. Non ho niente di speciale. Se non i colori. Come sempre. Questo è il pick. Questo è il quadri. Questo è il fiori. E questo è il cuori. Se lo andiamo a mettere. A paragone. Con quello delle solite. Care fireboard. Noteremo che. Vi faccio vedere uno solo. Tanto poi. Anzi. Vi faccio vedere anche uno nero. Ovviamente. Andiamo a vedere che. Il disegno è. Lo stesso. Identico. Cambiano soltanto i colori. Come vedete. Ovviamente. Vabbè. È anche il simbolo del seme. Che qua. Non ha il bordino giallo. Vado a notare. Ma. Il bordino giallo. Invece. È intorno alla figura. Qui invece. Abbiamo il seme. Personalizzato. Anche qua. Comunque. Si. È letteralmente identico. Ma con. Colori cambiati. Semplicemente. E. Stessa cosa. Ovviamente. Vale anche per quello nero. Molto figo. Mi dispiace che abbiano utilizzato gli stessi colori per quelli rossi e quelli neri. Perché. È una cosa che invece per i semi non hanno fatto. Cioè. I semi neri sono diventati blu. Quindi ti aspetteresti che. Siccome i semi rossi sono rimasti rossi. Anche se. Ora voi non lo notate. Ma anche il seme rossi è leggermente diverso in realtà. Vediamo. Se si riesce a vedere la differenza di colore. Io la vedo. Vediamo se in videocamera rende. Un po' sì. Come vedete questo a voi sembra più arancione. Quando in realtà è più scuro. E questo invece. Vi sembra più rosso. Quando in realtà è un po' più sul rosa. Però non hanno differenziato i colori. Tra. Cioè se io copro i semi. Sembrano. Cioè potrebbe essere benissimo. Entrambi potrebbero essere neri. O rossi. Non si capisce. Peccato. Avrebbero dovuto forse differenziare un pochino. Ma ho visto che è una cosa che fanno sempre. Anche. Comunque. Anche in questi. Non c'è nessuna differenziazione a livello di colori. Quindi. Posso capirlo. Ma senza perdere troppo tempo. Andiamo a vedere anche le donne. Il Q. Allora non confondiamoci. Anche siccome ho detto. Le donne. Il Q. Deve essere le donne. Il culo. Q nel senso. Che la donna è il Q. Ovviamente. E. Niente. Stessi colori. Ovviamente. Molto carine. Madonna. I colori che rendono in video. Non mi piacciono. Sono troppo accesi. Sono molto più soft. I colori che ci sono qua. Soltanto il giallo. Rende abbastanza bene. Questo marroncino. Quello è simile. Per il resto. Sono tutti molto. Molto. Molto più. Non so come dirvi. Sono più grigiastri. Invece voi li vedete. Proprio azzurro pieno. E blu pieno. Brutto. Non mi piace. E. Vabbè. Niente. Abbiamo una carrellata. Tanto c'è sempre la solita roba. Sono sempre gli stessi. Andiamo a vedere i K. Ecco qua. I K. Stessa roba. Sempre i soliti colori. E le solite figure. Carini. Bene. Direi che a livello grafico abbiamo già visto tutto. Andiamo a sentire un pochino come suonano. Anche se in realtà è una minchiata. Perché sono tutti uguali alla fine i mazzi. Ma andiamo a vedere lo stesso. Grazie a tutti. 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 E' un po' più verde. Per voi è completamente diverso. Nella realtà non è veramente completamente diverso. È troppo verde. E. Niente. Mi sembra che mi ho visto tutto. Credo. Non mi sembra che ci sia altro da vedere. Questo era il mazzo di oggi. Vi devo dire. Non do mai un voto. E' un po' più. Quindi non darò i mazzi. Non darò un voto. Non darò un voto. Non darò un voto. Però vi dico la mia. Carino. Molto molto carino. Molto giocabile. Nel senso che. Nel senso che alcuni mazzi hanno. Cioè alcuni. Per ora mi sembra che si sia presci. Con due mazzi l'abbiamo visto. Allora. Tipo. Questo mazzo. E' molto carino. Ma. Per implementare. Diciamo un livello di design. Di. Cosa carina. In più. Andando a modificare proprio i semi. Ti rende difficile la lettura della carta. Perché. E' facile confondere. Fiori con le picche. E cuori. Con i mattoni. Perché. Con tutti sti ghirigori. Vai un po' a perdere. La semplice. Per proprio. La semplicità. Della forma del seme. Che. E' fatta apposta. Per. Dire. Io sono picche. Proprio lo metto in chiaro. Questa è la mia forma. Semplice. Sono poche linee. Poche curve. E qui invece. Non si va per niente. A sacrificare questa cosa. Ma comunque. C'è una decorazione. Su ogni carta. Che. Con la tricamera interna. Non si vede niente. Ma. Insomma. C'è il ghirigoro. Che sta come sfondo. Che è molto in trasparenza. Quindi. Non è. Eccessivo alla vista. Non dà fastidio. Ma. Ti dà quell'impressione in più. Di carta. Carina. E curata. Molto molto carino. Con questo bordino. Marroncino. Su ogni. Simbolo. Te lo mette ancora più in chiaro. Molto più in rilievo. Molto molto bellino. Ripeto. Peccato. Per le figure. Che sono. Tutte monocromatiche. Hanno tutti gli stessi colori. Ma questo è un problema comune. Per le carte. Almeno. Per la bicycle. E niente. Che altro dire. Poi. Mi sembra. Si sia detto tutto. Carino. L'asso. Devo dire. L'asso di picche. Bellino. Lo andiamo a ripetere. Perché non me lo ricordo bene. Carino. Va a riprendere questa cosa. Che c'è. Anche sulla scatola. E sul retro di ogni carta. Ci sta. Abbastanza. Lineare. Con il prodotto. Molto carino. Dai. Devo dire. Non mi dispiace come mazzo. Non mi ricordo quanto l'ho pagato. Ma. Sta nella media. Diciamo. Non mi sembra che fosse tanto costoso. Se fosse. Classico. Prezzo da mazzo bicycle. E niente. Che altro dire. Non so se sia detto tutto. Non credo ci sia altro da analizzare. Mazzo di carte. Che dico di. Quindi. Niente. Spero che. Vi abbia entusiasmato. Che vi abbia incuriosito. E. Tra l'altro. Ah. Guarda. Qua. Allora. Vediamo se vi devo switchare la camera. So di sì. Sì. Vedendo dall'interno della scatola. Comunque. Si vede il rilievo. Perché qua è in basso rilievo. Quindi qua si riesce a capire. L'effetto. Anche qua dentro. Vediamo se devo flashare. No. Tutto subito. Qua. Sì. Vedi. Si vede. Qua si nota meno ovviamente. Perché ci sono i colori. Quindi sembra un effetto soltanto dei colori. Ma invece. È anche proprio un effetto di profondità. Ma vabbè. Va bene. Quindi per questo mese con le carte siamo a posto. Anche perché era l'ultimo lunedì disponibile per farvele vedere. Ho rimandato un po' di volte. Nonostante ce l'abbia da un po'. E. Tra l'altro. Non so se ve l'ho già detto. Sicuramente ve l'ho già accennato. Ma. Non so se avete visto il video. In video. In cui lo dicevo. Ho già il mazzo del mese prossimo. Quindi il mazzo di maggio l'ho già comprato. Perché. Per dei motivi di prezzo. Perché è un mazzo che costava tanto. Costava quasi 20 euro. Ed è sceso di prezzo a 12-13. Quindi appena ho visto che è sceso di prezzo. L'ho comprato. A prescindere dal momento in cui era. Anche se avevo già comprato pochi giorni prima questo. Quindi. Insomma. Il mazzo del mese prossimo ce l'ho già. Potrei uscire col video la prima settimana. Però. Anche no. Cioè. Alla fine. Chi se ne frega. Magari. Facciamolo più in là. Visto che questo l'abbiamo fatto l'ultima settimana. Altrimenti. Escono due settimane di seguito. Le carte. E. Tra l'altro. Devo comprare. Eh. Non so se riesco a comprare dei cd. Comunque. C'è ancora il bonus cultura. Devo comprare i biglietti per i concerti. E se mi avanzano soldi. Prenderò dei cd. Quindi. Nel futuro prossimo. Ci dovrebbero essere anche i cd. Forse. Chi lo sa. Se mi bastano i soldi. Vedremo. Va bene. Io vi ringrazio per la visione di questo video. Noi ci vediamo domani. Con un altro video. Non so con cosa. Visto che ancora. Non ho registrato il gameplay di Gran Turismo. Che ci dovrebbe essere martedì. Ma. Penso che ormai la serie sia. Diciamo sospesa. Cioè. Nel senso. Quello che c'è. C'è. Non c'è più. La Gran Turismo non fa più parte. Di cosa ufficiale del canale. Anche se mi stuzzicava. Continuarlo. Cercherò di continuarlo. Però. Con cadenza fissa. E poi. La prossima settimana. Vedremo. Se riusciremo a fare un cd. No. Un mazzo. Non credo. Cioè. Due settimane di seguito. Carte. Eviterei. Quello che c'è. C'è. Vi arrangiate tanto. Bene. Quindi vi auguro a tutti. Una buona. Inizio di settimana. Visto che è lunedì. E. Vi dico. Un abbraccio. Shoban. Rob Limits.